Ma prima di ogni cosa io vi invito a iscrivervi al canale e accendere la campanella Qui sotto, molto importante per ricevere una notifica che è uscito il mio video Perché voi non sapete mai quando un mio video vi possa servire Tecnologia c'è sempre bisogno, quindi se non sapete fare qualcosa magari un video che faccio vi potrà servire, notifica, quindi attivate la campanellina Ah un'altra cosa, seguitemi su Instagram, vi lascio il link in descrizione Così lì potrete vedere alcune foto che posto durante le giornate e potrete scoprire qualche cosa perché farò un contest Qualcuno di voi verrà scelto per ricevere un premio molto particolare Quindi andatemi a seguire e io nei prossimi giorni posterò una foto che dovrete inserire nelle vostre storie E in base a chi mi ha taggato io andrò a fare una selezione di chi potrà ricevere questo premio Quindi mi raccomando andatemi a seguire Ma iniziamo Un saluto a tutti qui da GoPippo Allora vi ricordate la scorsa volta ho fatto un video sul metaverso Diciamo, chiamiamolo metaverso perché siamo entrati nei mondi virtuali attraverso il nostro Oculus Quest 2 Io ho voluto farvi subito vedere come funzionava un'applicazione semplice Sono i primi passi di Oculus, vengono chiamati Ma sicuramente vi ho risparmiato un po' di cose perché vi ho fatto subito vedere come funzionava invece di farvi vedere le caratteristiche Adesso andiamo a vedere come funziona, quali sono alcune delle caratteristiche tecniche di questo visore e se è un acquisto utile da fare Continuiamo con il video Allora io cercherò di essere il più veloce possibile ma tanto vi farò dei tagli tipo questo No, nessun taglio perché è facilissimo Eccolo qua Tutto il suo splendore Nella scatola troveremo subito il visore Che è già acceso perché l'ho preparato per voi E i due telecomandi I due joystick Le due mani virtuali Perché queste sono letteralmente le vostre mani Perfetto, allora noi avendo questo visore ovviamente semplicemente bisogna indossarlo Qui a fianco abbiamo il pulsante di accensione quindi per accenderlo basta tenere premuto un paio di secondi e lui si accenderà Qui sotto abbiamo il volume più volume meno Sì perché abbiamo lo speaker integrato quindi abbiamo delle cuffie qua laterali Abbiamo due lenti ottiche Queste due lenti praticamente si dividono due schermi All'interno ha due schermi 1832x1920 E abbiamo un refresh rate di 90 Hz E non male davvero un ottimo display Abbiamo come processore lo Snapdragon XR2 Che ha 6 GB di RAM Questo sostituisce il vecchio visore Il vecchio visore era uno Snapdragon 835 Da 4 GB di RAM Ma se vogliamo avere anche una Diciamo uno speaker, una cuffia in più Qua abbiamo un jack Noi possiamo collegarci alle nostre cuffie Quindi avere molta più profondità del suono Anche se devo dire che il suono è riprodotto da queste casse Che poi non si vedono neanche Sono esattamente questi buchini qua laterali Sono davvero ottimi E' molto molto immersivo E poi cos'altro dire Abbiamo 4 fotocamere qua Non so se le vedete Questi pallini neri Sono 4 fotocamere Perché queste 4 fotocamere Andrete a vedere l'ambiente reale che avete intorno Perché se voi uscite dalla stanza Dal mondo virtuale Potrete vedere la casa Poi cosa abbiamo? Abbiamo una USB-C Dove noi possiamo caricare il nostro Oculus E possiamo collegarlo al nostro computer Sì perché lui può viaggiare anche da solo Può fare qualsiasi cosa senza un computer Potete fare qualsiasi cosa utilizzando lui Ma se avete dei giochi in VR Sul PC Voi potete collegarlo E potrete giocare sul computer Con questo visore Ottimo no? Ma andiamo a vedere subito come si presenta l'interfaccia Eccoci qua che siamo pronti Allora io lo indosserò Ho portato già subito il PC Così voi potete vedere nel frattempo Cosa vedo io Perché noi possiamo collegare anche al computer Al Mac Windows che sia Indossiamoli Io utilizzo sempre il cappello Ma adesso vi faccio vedere Allora voi starete vedendo adesso l'immagine Qui a fianco O qui da qualche parte State vedendo l'applicazione Praticamente noi abbiamo tantissime applicazioni Ma non approfondiamo questo adesso Perché vi voglio fare subito entrare Clicchiamo sul wifi Infatti è connesso con la mia rete Deve essere connesso sia Il computer con la rete di casa Che l'oculus con la rete di casa Stessa rete Andiamo su mirroring Perfetto Voi dovreste vedere Perfetto Allora vediamo se vedete bene Sì vedete bene Ok Questo è il mio mondo Vedete voi Vedete voi le mani Le mie mani Si vedono nel Si si vedono Si vedono Tolgo questa cosa perché mi dà fastidio Ok Prendo l'altra mia mano E vedete Io se alzo Se premo Vedete che il dito Preme tutto Anche il pollice E anche i medi Perché noi abbiamo Le impugnature Qui abbiamo questo grande menu Che adesso Vabbè non vi faccio subito vedere Perché voglio farvi vedere Cosa c'è intorno Cioè ragazzi Guardate cosa c'è intorno Cioè vedete il divano qua dietro In realtà è il divano vero Che c'ho qui Perché io l'ho selezionato E ho potuto vederlo La cosa bella È che adesso Sono impostato in modo stazionario Infatti vedete questo cerchio Se io esco da questo cerchio Io vedo casa mia Però guardate l'immersività Ragazzi Cioè guardate Io sono esattamente Dentro una casa Guardate l'immersività Cioè sentite pure i suoni Ho il cammino di lì Ho la palla che vedete di qua Che però è di là Vabbè non fa niente È davvero una cosa eccezionale Io vi faccio vedere un'altra cosa Praticamente Gli ambienti virtuali Ecco Io ho installato tutti gli ambienti Praticamente Se io vi faccio vedere Applico questo Cioè guardate ragazzi Io sono Dove è in Corea qui Guardate qua Cioè E secondo me Questo è spettacolo Ma voi dite Ma tu devi stare seduto qui E guardarti solo intorno Cosa c'è di bello Eh no ragazzi Perché è molto più immersivo Di quanto pensiate Infatti Adesso vi faccio vedere Solo un altro ambiente Che a me è piaciuto davvero tanto Che a me è piaciuto davvero tanto Allora a parte che Mi sono piaciuti praticamente tutto Per farvi vedere anche La stazione spaziale Cioè Ragazzi guardate Cioè praticamente noi siamo Nell'universo Siamo dentro la stazione spaziale Guardate dietro C'è la stazione spaziale Perché non è reale Perché magari Avessimo delle cose del genere Queste tecnologie Ma la cosa bella È che Io posso andare di là Voi pensate che io posso stare solo qui Ma io in realtà posso andare di là Sì perché Ha i confini Questi sono i confini stazionari Ma se esco fuori Posso creare i confini Se voi avete una casa gigante O un giardino O Un posto sicuro Voi potete camminare In tutta la stanza In tutta la stanza virtuale Questo è il bello Allora vi faccio vedere Eccoci qua Siamo tornati alla fine Ma Come sapete Questo video Ve l'ho già fatto Infatti se voi andate a vedere Nel video precedente Voi vedrete quello che Ho fatto realmente Quindi non resta che andare indietro Nel video precedente E andarlo a vedere Ah perfetto Abbiamo finito Ok Allora per chiudere questo video Io vi dico che Nei prossimi giorni Nelle prossime settimane Posterò dei video Sempre con l'Oculus Perché mi sono venute Delle idee Un po' pazzerelle Perché mi piacerebbe Andare in un campo aperto E selezionare Praticamente Tutta l'area Di questo campo E poter utilizzare Il visore Su questo campo Così da non avere ostacoli Da non avere niente Bah Chi lo sa Quindi Mi raccomando Seguitemi Iscrivetevi al canale Come ho detto prima E accendete la campanella Sempre molto importante Per ricevere una notifica Che è uscito il mio video Ovviamente Quindi Ci vediamo alla prossima Rimanete sintonizzati E ciao Ciao